Unico sopravvissuto di questo schianto, servono difese, servono farmaci, quindi sarò molto utili per le uova Dobbiamo domesticare il cavallo allora Bravo Harris, dai piovi che non ce la faccio spegnere tutta sta roba Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su questa nuovissima serie dedicata a Rimworld Riprendo dall'ultimo salvataggio il mio caro Harris, unico sopravvissuto di questo schianto Si sta dando da fare insomma per creare una zona dove poter sopravvivere e potenzialmente speriamo anche creare una nuova colonia Allora abbiamo il nostro affidato Aski Cosa sta facendo? Aggiunge acciaio all'inventario e sta facendo un po' di ordine Ora gli direi Servono difese, servono farmaci e non ha l'arma da tiro perché naturalmente non gli ho dato il fucile Allora cosa gli facciamo fare? Intanto comincerei con il fargli raccogliere delle bacche Che fa sempre bene, avere una scorta di cibo Ah eravamo rimasti al fatto che lui aveva con sé uno scogliattolo che gli ho fatto prendere Consuma scogliattolo morto Glielo fa mangiare crudo però Non glielo fa macellare Evidentemente lo scogliattolo si mangia così Che tristezza Va bene Sta continuando a lavorare Gli faccio finire il pavimento Se no poi ci lamenta Rimuoviamo queste due colonne E poi direi che possiamo cominciare magari a coltivare un po' Pocca roba tanto da solo Cosa gli facciamo? Il riso Il riso va sempre bene come risorsa principale Base, come risorsa base insomma Poi gli faccio costruire magari una stanza Questa parte magari la dividiamo E creiamo delle stanzette Da tre Vediamo Due stanze da tre Due stanze da tre è una più grande Ma sì Porta, porta Questo però glielo sposto Facciamo la zona macellazione Tipo qua Qui va bene Creiamo anche un punto di lavoro E glielo metto di fianco Alla zona macellazione E qua gli facciamo creare Oddio per il momento non è che mi serva molto da creare Il coltello ce l'ho Per il momento delle solose di base le ho Faccio raccogliere tutte le bacche Così poi comincerei a Li farei provare Vediamo come c'è là lui il talento animali Eh poca roba Poca roba però da qualche cosa bisognerà pure cominciare Oh qui c'è dell'acciaio Lo recuperiamo Magari posso cominciare con I conigli Visto che ci sono i conigli Spero non siano Molto difficili da Da Domesticare Vediamo se me lo dice qui No non me lo dice Quindi vabbè Però intanto lo comincio a indicare come Addomesticabile Questo è un maschio Vediamo se trovo anche la femmina No per il momento la femmina non la vedo Poca salterà fuori Oh qui c'è altro cibo Lo recupero Oh c'è un tacchino I tacchini sono molto utili per le uova Dandono una fonte di cibo ulteriore Ma si proviamo a domesticare anche lui Qua c'è anche la femmina Perfetto Addomestica anche questi Intanto continuo a cercare la femmina di coniglio Di notte è un po' più facile cercare gli animali Perché hanno la zeta Oh qui c'è un animale Morto Fa niente Hanno la zeta Del dormire Però questo è un ratto Eh no il coniglio femmina non c'è E va bene Ce ne facciamo una ragione Intanto mettiamo come ordine Il pasto semplice Ok direi di averne sempre almeno Direi Due Visto che è da solo Due parti di scorta Anche se sono un po' pochi di due Dai facciamo un po' di più Facciamo almeno cinque Di scorta Questa La spostiamo di qua Di notte velocizziamo Ok si è svegliato Gli farei costruire intanto Gli farei di costruire anche dei letti per gli ospiti Così se arriva qualcuno Questo lo mettiamo Così se arriva qualcuno Che viene a trovarci Insomma possiamo ospitarlo Tu stai Mettendo in ordine Una cucina Bravissimo Bene ha cucinato Si sta rilassando Adesso proverei Appena finisce il relax A fargli Addomesticare il tacchino Ok Dov'è il tacchino? Qua Ah non può Serve almeno quattro Vediamo se riesce a domesticare il Questo Addirittura per domesticare lepre serve Il sette Il topo Nessuno può domesticare Ah ok Quindi niente E non si può domesticare con la valabilità 2 Vediamo se ne travolte più questo Neanche Serve il 5 Ma pensate Niente Allora ci toccherà O acquistare gli animali Da un qualsiasi mercante Oppure Sperare che qualche animale Si unisca a noi Sostanzialmente Il cavallo che Oh il cavallo si Oh il cavallo si Allora proviamo a domesticare il cavallo Allora Non c'è cibo Ok va bene Allora Pensiamo al cibo E poi domestichiamo il cavallo Età 20 Età 19 Eh sono vecchietti sti cavalli però eh 3018 Tutti anzianotti Non so se convenga A domesticare questi Tanto è res coltiva Che forse è meglio E due pasti sono Completati Lì però Li farei un altro scaffale Sennò questo mi lascia tutto in giro Immobilio Scaffale di legno Ehm Devo togliere la torcia di qua Sennò non me lo fa fare Intanto facciamo una coppia E glielo metto di fianco di qua Ok Oh Stanno attaccando Aspetta eh Ah tu sei Scavatore Quanti anni hai? 50 anni E ha una cicatrice da pugnalata Biografia Costruzione Ok Potrei provare a catturarlo Eventualmente E farlo diventare uno dei nostri Per far questo Però devo far diventare Questo letto Per prigionieri Intanto vediamo Se riesco A sopravvivere E poi vediamo Ciccio vieni qua Ehm Impugna Ehm Il fucile Da caccia Ok Anche se Il fucile da caccia Oggettivamente Lo uccidiamo Non vedo Molta possibilità Di fare altro Dovrei Craftarmi Una Una clava Per questa cosa Crea clava Una volta Sì Però adesso Non è proprio il momento Vediamo se Adesso sopravvivere Intanto così Che sta attaccando subito Ciao Vieni qua Così lo vedi E lo attacchi L'ho acceso subito Vero? Sì E' morto subito Vabbè Bravo Harris Prenditi le sue cose E ci Crafteremo Una Una clava Per i prossimi attacchi Anzi E gli faccio anche Costruire Un letto in più Per i prigionieri Così E questo letto Lo spostiamo Di qua Porta Così Così Li costruiamo La torcia Di qua I comodini Di legno Per abbellire La stanza E quindi Farla risultare Più accogliente I vasi Da fiore E poi vediamo Cos'altro Harris Si sta bevendo Una birra Ok Ma no Sta trasportando La birra Ma in realtà G che si sta rilassando Va bene Se te la bevi anche Va bene Non succede niente Ah no Sì infatti Se la stavo bevendo Adesso Hai brezza Ed è eccitato Dall'alcol Che da dieci di umore Ed è anche eccitato Dall'alcol Va bene Oh non gli ho messo L'automedicamento Ma errorissimo Poteva costare Avrebbe potuto Far danno Appena sveglio Subito colazione E qui abbiamo Lo scogliattolo morto Che schifo Devo cargli una zona Deposito Zona Discarica Anzi Magari lontano Dalla vista Così Scarichiamo qua Le cose Brutte Tipo i cadaveri Anche tu Ti autorizzo Allo spostamento Così le mettiamo Tutti là Lui costruisce Intanto vedo Le scorte Argento Non ne ho Neanche un po' Eh Se lo trovassi In giro Non sarebbe male Però ho già guardato Non trovo Nessuna scorta Di argento Li do un'occhiata Giusto per Scrupolo Spero che Se mi arriva Un mercante Con cosa acquisto Che non ho Neanche argento Neanche un po' Oh Ho creato la clava Molto bene La impugnerò Se dovesse arrivare Qualcun altro Anche se rischi Di morirci Così Comunque No Niente argento Porca misera Niente argento Speriamo In un meteorite Lui cucina Molto bene Devo fargli tagliare Altre piante Però Già Taglia queste Anche queste Qua intorno All'orto Scaffali Già non Bastano più Facciamone altri Vediamo se in giro C'è qualche animale Morto Ucciso Da qualcun altro Sempre lo scoiattolo Ma Marcio Qui no Anche se io Proverei a farli scavare qua Che magari Magari argento Invece Proviamo I cinghiali Quanto ci vuole Per destrarli Niente Quattro Anche questo Poi mi viene in mente Una cosa Magari le materie Prima le posso lasciare fuori Di creare una zona Deposito Qua fuori E qua ci mettiamo Solo le materie prime Tipo Non il cibo Che lo mettiamo dentro Le materie prime Sì però Le armi no Ce le teniamo dentro Edifici Cosa sono? Sculture Sì Queste sì Manufatti Tranne le medicine Componenti Mosto No Queste forse È meglio tenerle dentro Sì Niente Queste fuori no Al contrario Qua invece Qui abbiamo fatto Materie prime edifici Qui tutto al contrario Materie prime No Coppiamo E incolliamo Dove sei Harris? Ah sei andato a scavare Bravo Cos'hai trovato? Niente Acciaio Quindi confermato Che questo non è argento Oh Questo è argento No Plastacciaio Questo? Questo è oro Questo è oro Interessante Questo lo possiamo scavare Accogliamo le piante curative Le bacche E andiamo avanti così Anche queste bacche qua Andiamo a coltivare qualcos'altro Un'altra striscia E qui gli faccio coltivare il mais Un'altra striscia così No ho sbagliato Allora qui il mais Abbiamo detto Ok Poi un'altra zona E qui ci facciamo Il cotone Che ci servirà per i tessuti E qui E qua ci facciamo Le zucche direi Questa fai Harris? Ti rilassi? Ma si fai anche bene va Questo lo mettiamo Per i visitatori E questo qua lo faremo Per i prigionieri Perché ho la stanza più grande I prigionieri? Perché i prigionieri Con la stanza bella Sono più Diciamo così Inclini Ad unirsi al gruppo Ecco quindi Finché Poi pian piano Espanderò la base Naturalmente Ma nel frattempo Che ho poco spazio Lasciamo la stanza più grande Ai potenziali prigionieri Intanto vediamo sempre Se c'è qualche Animale morto Da recuperare Ma no Nessun animale morto Ma ci sono delle razioni In giro da recuperare Adesso appena ti svegli Te le faccio prendere Se no Marciscono in giro Per la mappa Ma fai colazione Cosa stai facendo? Ah Trasporti per il falò Va bene Si rilassa Eh vabbè E adesso Semina Ok la semina Va fatta Accederò Così finisce Prima Buttare giù la pianta Va bene Appena finisce Di buttare giù la pianta Lo mando a recuperare Le razioni Di cibo Ok ha fatto Trasport Ah già Che deve finire i progetti Vai Costruisci Adesso vieni qua però Recupera Le razioni di sopravvivenza Anche questa Lupo Scaccia Erris Oh Male Molto male Erris Emergenza C'è il fucile La caccia Sì per fortuna Beccalo subito Oh Di qua ciccio Non posso io Catturare gli animali Vero? Mi sa di no Mi tocca ucciderlo Per forza Sennò l'avrei Tipo preso Prigioniero E reclutato Per quanto possibile Mi sta attaccando lui Però Eh no ciccio Attacca In mischia Dovevo avere un coltello Intanto mi sta Mi sta mordendo Male Molto male Però ho vinto io Ok Soccorri Trasporta Allora Se lo soccorro Chissà se poi si fa Domesticare E morirebbe tra poco Maschio Lupo Ma proviamo Soccorrilo Non posso correre Nessuna caccia raggiungibile La cuccia Ah Dovrei avere la cuccia Allora Mi sa che no Allora mi sa che no Niente Tolgo la La modalità battaglia Lui si va A curare E niente Questo lupo Ce lo mangeremo Probabilmente A meno che io riesca A costruire una cuccia Subito Fatemi controllare Cuccia No Non ho anche materiali Quindi niente E il lupo non lo possiamo Addomesticare Tanto lui si cura da solo Vuoi riposarti Va bene Ci sta Poi recupereremo Il lupo Accelero Così guarisce Oh mamma mia Che spavento E quanti Fulmine Mi vuoi fare Guarda Eh tempesta di fulmini La vedo Spero che piova anche Così spegne il fuoco Non sembra piovere Spero si metta a piovere Oddio Potrebbe essere già la fine Della nostra Base Anche se Appena si avvicina Alla zona Vicino alla base Teoricamente Lo spegne Però così mi brucia Tutto proprio Dai piovi Che non ce la faccio Spegnere tutta sta roba Dove te ne vai Adesso Ah perché questa È considerata Zona Base No ci c'è Vieni qua Mi spegne di lì Qui ce ne frega Eh spegne questo Che va bene Il resto può anche bruciare No 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 Stai qua Stai qua Brucia di qui Non te ne andai di là Spegni di qua Madonna Quanto sta bruciando tutto Dai piovi Che mi spegne il fuoco Almeno Tutte le risorse Mi spegne Così mi brucia Spegni il fuoco Brava Bravo anzi Avviso critico il fuoco Eh me ne sono accorta Grazie a Grazie a Ho capito che c'è il fuoco Mi hai fatto bruciare tu Niente Non posso fargli fare altro Finché non si spegne Sto cavolo di fuoco Dai dai Spegnilo C'è pure il vento Che aumenta la Aumenta la cosa Dai piovi 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 Dio che dramma Ancora Altri fulmine Non bastavano quelli Ma che Oh ci sta mettendo Dell'impegno però eh Sta spegnendo tutto Quello che Che sta Che si avvicina E piove Oh meno male Finalmente la pioggia Bravo Harris Bravissimo Harris Il nostro Caro pompiere Guarda Però adesso Recuperai il lupo Così se lo mangi Almeno No Non consumarlo subito Prendilo però Ehm Trasporta Lupo morto Assolutamente Ma non metterlo lì Macellalo Vabbè O di mancarla skill Per farlo Mi ho messo qua Ah non gli ho dato L'ordine Ma c'è la creatura Per sempre Perché Ho spostato la postazione E non gli ho ridato Il comando Adesso lo fa Ah ecco Cos'è questo? Oh rocai Oh che giornata Harris eh Giornata Intensa Guarda Guarda che desolazione Tutto qua intorno Tutto bruciato Controllo se c'è qualche altro animale in giro Da recuperare Animali morti intendo naturalmente Che ogni tanto qualcuno muore da solo E riusciamo a recuperarlo Da mangiare Niente Però qua ci sono queste razioni Da prendere assolutamente Harris che stai facendo? Semini Eh bella idea Ma stai già raccogliendo? Oh stai già raccogliendo Velocissimo sorriso Però vieni qua a prendere queste razioni Che secondo me sono utili Dai priorità Strasporta Assolutamente Ha raccolto tutto Fantastico Anche questi però Prendi anche questi Sì allora Prima ci ha interrotto il lupo Molto bene Harris cucina il riso Quanti passi abbiamo? Adesso 4 su 5 Fantastico Abbiamo anche la carne Guarda che bello Adesso mi concentrerai Caro il nostro Harris A fare la stanza per il prigioniero Che se arriva qualcuno Almeno lo reclutiamo subito Subito Insomma lo reclutiamo Proviamo a reclutarlo Si rilassa E mentre Harris rilassa Ragazzi Io concludo qua l'episodio Altrimenti diventa troppo lungo Naturalmente Vediamo cosa ci riserverà La sua avventura Se avete consigli per me Come sempre Vi aspetto nei commenti Se vi è piaciuto l'episodio Lasciatemi il vostro like E se vi iscrivete al canale Mi fate felice Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi